buonasera buonasera a tutti eccoci ancora per un'altra puntata su anubi tv dedicata anche questa sera all'antico egitto siamo seguendo la nostra il nostro filone sull'alimentazione e anche questa sera abbiamo con noi il nostro compagno di viaggio che il professor pietro testa buonasera pietro buonasera a tutti eccoci qua allora questa sera entreremo nelle mie alimenti solidi in questo caso abbiamo fatto gli alimenti liquidi ora andiamo sui solidi questa sera parleremo della carne un argomento molto interessante e sarà anche una puntata molto ma molto bella da seguire e sicuramente sarà apprezzata dal nostro pubblico io direi pietro che possiamo senza perdere ulteriormente tempo iniziare la nostra nostra chiacchierata ciao dunque mettiamo la diapositiva alla prima così arrivo subito sì sì ecco qui quindi stasera parliamo come è stato presentato dell'alimentazione egiziana riguardante le carni non solo bovine ma anche di altri erbivori e all'ultimo sorpresa perfino delle iene questa immagine è proprio l'immagine sempre tratta dalla tomba di mectra del di una di un macello quindi di una macelleria in cui c'è il l'animale morto a terra le carni appese e i macellai che fanno il loro mestiere dunque andiamo adesso alla seconda così ecco allora iniziamo con i bovini i bovini presenti nelle scene parietali sembrano essere il risultato dell'addomesticamento dell'uro selvatico bos primigenius infatti i primi bovini sarebbero stati addomesticati intorno al 4.800 avanti cristo nel faium nell'oasi del faium e nel deserto libico addomesticazione conseguente alla desertificazione del sahara che spinse le popolazioni umane e animali verso le rive del milo e questo è un fenomeno che tutti quanti più o meno conosciamo infatti poi prova ne sono pitture rupestri nel sahara che dimostrano la diciamo la vita nel sahara quando era verde la vita sia di esseri umani che animali e quindi nella fertile vallata endotica si sviluppò l'allenamento bovino e non solo che costituì una risorsa permanente alimentare e anche religiosa e qui abbiamo diciamo due immagini una del a sinistra del boss africanus e l'altra il cranio di un bue api la differenza fra questi due diciamo la accenniamo brevemente infatti dalle mummie dei tori provenienti da sahara e abusir appartengono alla razza del boss africanus come dimostrano i loro scheletri infatti si tratta di animali di piccola aglia con misura algarrese in media di un metro e cinquanta un metro e quaranta cinque un metro e cinquanta e lunghi senza la coda sui metri su un metro e cinquanta un e sessanta quindi l'animale era snello alto di zampe d'aspetto cervoide il che fa supporre che era anche un buon corridore le corna sono a mezza luna e ancora oggi in africa si vedono questi tipi di buoni specialmente le tribù masai eccetera e quindi è anche abbastanza lunghe e poi il cranio invece del bue api dei buoi api qui ce n'è uno presenta che proveniente dal serapeum di sahara presenta delle corna divaricate e diritte e anche incurvate in avanti il lo zoologo l'ortè dei due secoli passati concluse che i bovini egiziani erano tutti appartenenti con varianti di grandezza alla razza del boss africanus però la cosa sconcertante sulla definizione dei tipi di bovini è che spesso ci troviamo di fronte a un sostantivo un sostanzioso numero di denominazioni egiziane non sempre corrispondenti alle raffigurazioni comunque qui abbiamo un po una tabella dei dei buoni dei tipi di bovi e tori conosciuti e naturalmente diciamo mangiati dagli antichi egiziani quindi c'era il bue il bovino con le diciamo con i loro nomi egiziani il bue quindi bue aveva tre o quattro denominazioni a seconda forse della razza della taglia il poi il buo dalle il buo dalle corna corte quindi due diciamo buovi o perlomeno due specie bovine molto presenti in egitto erano i bue dalle corna corte lungi e il bue dalle lunghe corna il negau poi c'è il bue da aratro quindi aveva un nome simile a quello che si dava all'aratro seca il bue da gioco da gioco quindi da aratura poi andiamo nella categoria dei tori il toro ca ur usce baviva vari tipi di nome a seconda anche dei periodi c'è il toro feroce il toro selvaggio toro da combattimento toro sacrificale e poi i vitelli naturalmente hanno alcuni nomi e poi naturalmente in utile vacche vacca vacca da latte eccetera quindi questi più o meno sono le denominazioni poi diciamo sicure per questi tipi queste specie di bovini poi altri nomi ci sono ma diciamo si traducono con bovino eccetera quindi l'addomesticamento poi dei bovini fu preceduto dalla caccia alle mandri selvatiche questa attività si trasformò poi in sport mirato alla cattura dei tori selvaggi con il lazzo o con una specie di bolas a una palla quando non si uccidevano naturalmente con archi e frecce quindi c'era anche per per i tori c'erano c'era questa specie cioè questo sport perché si estendeva ai tori e leoni il leone africano che purtroppo è sparito da parecchio tempo il colore del manto dei bovini rappresentato nelle scene antiche era vario andava dal nero al bianco al pezzato nero rosso su fondo chiaro o bruno e questo naturalmente lo si vede dalle pitture parietali nelle tombe riguardo poi all'allevamento della supervisione delle mandio del re e dei templi questo allevamento conferiva un alto rango le persone incaricate di questa funzione stando naturalmente ai vari titoli come ad esempio sovrintendente del bestiame specialmente nell'ambito delle proprietà templari la gerarchia era molto diciamo molto importante perché era del bestiame era il bestiame del dio che dava alimento al dio attraverso i rituali e naturalmente alla classe sacerdotale che poi si cibava degli tra virgolette avanzi del pasto del dio o della cena quindi il possesso di una mandria era un segno di ricchezza equivalente a un nostro conto in banca per le persone agiate o comunque per le proprietà fondiare riguardanti le tombe private avere una mandria di diciamo di bovini era un segno di ricchezza il censimento poi degli animali costituiva un grande avvenimento e non mancavano mandrie requisite durante le campagne militari e si dice bene o come tributo dei popoli vassalli d'egitto quindi vi erano i bovini diciamo nazionali e c'erano anche i bovini esteri che venivano dal dal medio oriente come tributi insieme ad altre cose il toro poi era importante perché divenne il simbolo della forza fisica e procreatrice spesso assimilato da dai re e dagli dèi spesso nei nomi diciamo nei cartigli dei re o comunque nei nomi del riguardante re della basse egitto compare il toro come simbolo della forza toro possente con spessi tori poi erano offerti in sacrificio agli dèi e al defunto durante la seconda e terza dinastia infatti alcune grandi mastabe di queste epoche erano contornate da crani taurini la castrazione poi dei bovini era praticata e i sacrifici dei buoi a scopo religioso erano consueti la marchiatura fuoco dei capi di bestiame era conosciuta quindi con poiché l'egitto non era ricco di pascoli spesso i bovini erano alimentati nelle loro stalle con i resti delle spulature del grano o con pastoni di pane la ratura poi vedeva dall'opera una coppia di buoi che tiravano l'aratro infatti possiamo andare alla diapositiva seguente ecco ecco fino a fatto il la scena ecco quasi dunque allora stavamo dicendo che per l'aratro era utilizzata una coppia di buoi o anche parecchi buoi quindi la separazione del grano dalla pula veniva poi per calpestino degli zoccoli dei bovini accompagnati da canti di incitamento dei guardiani come nella tomba di pageri qui ho segnato in rosso cioè questa infatti ingrandito a sinistra laia con il grano e i buoi erano mandati a circolare su questo grano vedete che c'è un un condottore armato di frusta mentre a destra davanti i buoi uno che raccoglie la pula e il canto in questa tomba per rendere diciamo più agevole e più leggera la fatica era questo tradotto alla lettera era rivolto ai buoi battete per voi battete per voi buoi battete per voi battete per voi era una canzone quindi non sappiamo il ritmo però la paglia per mangiare e il grano è per i vostri padroni non ponete la stanchezza ai vostri cuori poi che fa fresco riguarda il fresco insomma c'è da dubitare che il sole è bello forte comunque poi abbiamo e questo riguardo in generale quindi poi lo spostamento dei carichi pesanti toccava i bovini con il traino di una slitta come del resto una coppia di buoi trainava il feretro del defunto verso la tomba quindi buoi i bovini buoi erano monitori ma i buoi erano utilizzati per vari scopi nella diciamo nel lavoro e per tirare l'aratro in coppia e per dividere il grano dalla pula e anche per trainare logicamente i pesi quindi anche blocchi pesanti variati quintali di pietra o comunque su slitte o il feretro nel nei funerali c'è sempre la coppia di bui che tira il feretro del defunto sulla slitta verso la tomba adesso poi abbiamo riguardo ai buoi buoi importanti o meglio tori importanti e quelli più importanti erano il bue il toro apis il toro mnevis e il toro buchis e qui diciamo è bene fare era un oggetto di culto e quindi è bene fare una disgressione utile sul rapporto religioso di questi tre tipi di tori iniziamo col bue col toro apis ebbe un culto attestato fin dalla prima dinastia la documentazione dell'antico regno indica menfi come centro di culto e luogo di celebrazione di una grande festa in suo onore alla morte di un apis i sacerdoti si ponevano alla ricerca di uno nuovo erodoto descrive le caratteristiche del toro manto nero macchia quadrata sulla fronte a forma di acquila sul dorso coda due ciuffi e sulla lingua una macchia a forma di scarabèo la tomba più antica di un apis risale al regno di aminofis terzo diciottesima dinastia e fino alla diciannovesima dinastia ogni toro aveva una sua sepoltura fu il re ramesse secondo che fece costruire a saccara saccara dove c'è la piramide a gradoni un grandissimo ipogeo il serapeum che veramente molto interessante da 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 vedere da esplorare questo ambiente sotterraneo scavato nella roccia è composto di numerose sale in cui erano posti monumentali sarcofagi sono enormi questi sarcofagi in granito in diurita nera eccetera contenenti le grandi mummie dei tori poi abbiamo che la festa di consacrazione di un nuovo apis avveniva a menfi sotto la direzione del primo sacerdote di ptà erano legati ptà al al toro apis allo scopo di propiziare una buona inondazione il toro era condotto al santuario del nilo nell'attuale isolotto di roda vicino il cairo di qui poi per via fluviale iniziava il suo viaggio verso menfi in coincidenza con la luna nuova mentre la festa avveniva durante il premilunio quindi il nuovo apis era presentato al popolo partecipando a varie processioni naturalmente ogni toro apis aveva a disposizione una considerevole mandira di vacche sacre e la sua discendenza naturalmente era oggetto di grandi onori il toro era il ba cioè il diciamo la manifestazione o anche il figlio di ptà ptà era il dio creatore apis poi in seguito fu associato ad osiride e dalla diciottesima dinastia in poi anche a atom il sincretismo del di origine alla forma osiride apis atom horus quindi varie diciamo sfaccettature della deificazione attraverso le caratteristiche di ognuno di questi dei in epoca tolemaica poi nasce il dio serapis osiride apis la cui origine riferita un sogno di toromeo secondo i santuari in onore di serapide sossero in tutto l'egitto spandendosi poi durante l'impero romano e sappiamo tutti che una statua del dio fu trovata nel macellum di pozzoli in provincia di napoli quindi abbiamo e questo più o meno lo sappiamo tutti alcuni culti fra cui più importanti furono quelli di iside e nel bue del toro apis poi dilagarono nel nel bacino mediterraneo e quindi poi giunsero a roma e libero grande successo poi passiamo al toro mnevis naturalmente questi nomi sono sono greci che il bue il toro apis era il toro mnevis era merur e il toro bukis era beh riguarda mnevis esso aveva il manto nero e la sua presenza è attestata già nei testi dei sarcofagi medio regno pare che il suo culto sia stato introdotto nella seconda dinastia e nei testi delle piramidi è inteso come ba di ra e manifestazione di ra atom il toro era collegato agli oracoli e associati in epoca tarda anche ad osiride mnevis aveva a sua disposizione un harem di vacche ogni toro aveva il suo harem delle quali quelle privilegiate erano la vacca a torre e la vacca iustas naturalmente erano i posti ipostasi di queste due idee nel periodo tardo poi il cimitero dedicato a questi tori si trovava nord est del tempio di eliopoli e una necropoli separata era per sua madre la vacca cesat l'animale fu adorati in epoca greco romana anche ad edfu a dendera mentre a socnopeio nesos nel faium viene un tempio dedicato a osiride apis mnevis in ultimo c'è il toro bukis che fu adorato nella area di ermontis a sud di tepe e quindi nella regione tebana pare che il toro avessi il manto bianco e la testa nera esso era associato a ra e osiride e parzialmente con montu montu era in egiziano era manchu era il dio con carattere guerriero e poi aveva il suo tempio a medamut quindi anche bukis era collegato agli oracoli e curava le malattie oculari l'animale era tenuto per la sua combattività e ciò spiega la sua associazione con montu il dio della guerra dio guerriero iscrizioni trovate a medamut e che in cui era il centro di culto di montu testimoniano i combattimenti tra il toro bukis e altri tori in speciali aree le necropoli dei tori bukis i bucheion si trovano nel lato desertico di ermontis e sembra sia stata in funzione a partire dal nuovo regno questo tipo di necropoli riguardo poi le vacche che erano poi ipostasi delle divinità femminucce una vacca importante era appunto l'ipostasi della dea ator e vendera fu il suo luogo principale di culto inoltre la vacca in genere era associata anche al cielo la dea nut e il sole nasceva sotto forma di vitello dalle sue cosce e qui stiamo nelle nelle rappresentazioni scusate nelle tombe delle nelle rappresentazioni delle tombe del nuovo regno di epoca ramesside con queste rappresentazioni che sono poi sono state nominati il libro del giorno e della notte la mucca era poi legata anche a iside specialmente a afroditopolis l'odierna atfer in cui appariva con il manto bianco a ermopolis e a ermontis naturalmente anche le vacche sacre avevano onori di sepoltura e quindi abbiamo fatto questa piccola carrellata sul sul lato religioso di questi diciamo quattro tipi di bovini tre tori e una vacca adesso possiamo andare all'argomento macellazione e andiamo alla da positiva seguente ecco qui allora riguardo alla macellazione abbiamo numerosissime testimonianze di bovini macellazione di bovini come del resto di altri erbivori le scene in cui gli uomini che conducono le lorio bestie al macello ci forniscono i nomi degli erbivori destinati all'abbattimento vacche voi dalle corna corte dalle corna lunghe bubali cervi antilopi e gazzelle il personale comprendeva poi individui diciamo incaricati di condurre il bestie al macello i macellai e diversi sorveglianti i macellai indossavano un gonnellino e alcune volte una semplice cintura che ricadeva sul davanti per nascondere le parti sessuali la coltelleria era molto primitiva due strumenti erano necessari all'uccisione e allo squartamento un coltello dalla lama larga a guzzo e dal manico corto e uno strumento sottile e lungo dipinto nelle scene in nero e probabilmente era di ossidiana l'arnese presenta all'estremità un rigonfiamento che permetteva di fissarvi una corda legata alla cintura dell'uomo e infatti vediamo nella scena a sinistra in alto mentre il macellaio sta operando sul bovino abbiamo dietro di lui un addetto all'affilatura del coltello di selce con in mano l'affilatoio e questo affilatoio lo vedete bene legato a una corda a una cintura con naturalmente le didascalie riguardanti i termini tecnici degli arnesi quindi lo strumento era un affilatoio ed è da notare che gli arrotini tra virgolette assistevano sempre l'uccisione e lo squartamento degli animali ciò non toglieva che anche i macellai avevano l'affilatoio infilato nella cintura onde non dipendere sempre dall'allottino quindi l'affilatoio la mola è appunto questo tipo di strumento si chiamava seshem e quindi questo diciamo geroglifico indica sia la mola l'affilatoio che anche il macellaio un personaggio che presideva poi alla macellazione era lo zunu lo zunu il termine indica il medico però nella fattispecie stando presente in questo ambiente possiamo dire che era il veterinario tra l'altro questo si deduce anche da papiri veterinari di Ellaun nella tomba di Ptaotep vediamo il macellaio che mette sotto il naso del veterinario la mano sporca di sangue dicendo guarda questo sangue il veterinario in questo caso è il maggiordomo del palazzo reale sacerdote Wab quindi sacerdote puro il suo nome era Ha-Ahet-Ir-Eni e una volta annusato il sangue lui testificava che era puro e puro quindi è da pensare che vi era un controllo della salute dell'animale da macellare sicuramente già sano bastava annusarne il sangue e si poteva continuare nella macellazione andiamo alla depositiva seguente ora la scelta dei bovini da macellare si concentrava sui negau i bui dalle lungo corna dal carattere non molto facile bisognava prenderli al laccio o con il bastone e sugli un giù sui bui erano quelli semplici gli uau che seguivano docilmente il conduttore la conduzione di altri animali come gazzelle, orici, iene, bubali al macello procedeva con le opportune precauzioni in rapporto naturalmente al tipo di animale ingangiando con esso i conduttori vere e proprie lotte il resto era un animale cortamente selvatico quindi provenito dagli ampi spazi del deserto e bisognava stare attenti anche perché erano tutti provvisti di corna quindi una volta giunti al mattatoio bisognava legare le zampe posteriori dell'animale mentre un uomo gli solleva una delle zampe anteriore quindi lo vediamo nella scena in alto a destra l'operario, il macellaio, tira le zampe posteriori mentre un altro gli tira una zampa anteriore in modo che logicamente l'animale perde l'equilibrio e casca a terra mentre un ulteriore tira il bovino per le corna presumibilmente l'animale già presagiva la fine che doveva fare e quindi naturalmente non si faceva battere facilmente e andiamo al dialogo fra il macellaio il macellaio che con le corne dice forza agisci fortemente con questo bue dice all'altro che gli tiene le zampe e quello risponde la sua carne è bruciante, forza quindi naturalmente sono dialoghi noi alcune volte rimaniamo un po' perplessi per questi dialoghi però così parlavano e questo era il loro linguaggio all'animale poi atterrato era legata una zampa anteriore a quelle posteriori lo vediamo giù già legate mentre la restante zampa anteriore veniva sollevata lo vedete vedete con due braccio perché naturalmente faceva resistenza quindi effettivamente vedete quante persone c'erano un bue tra l'altro di taglia abbastanza grande e quindi in questo modo la vittima naturalmente non poteva più rialzarsi e quindi anche qui i dialoghi sono eloquenti tira la sua testa compagno io sto agendo e lui risponde io sto agendo come tu desideri quindi la messa a terra degli animali di grossa taglia variava e alcune volte la vittima stava in piedi tenuta da robusti uomini pronta ad essere sgozzata adesso possiamo andare all'altra diapositiva e qui abbiamo una scena piuttosto diciamo complessa e completa nei vari fotogrammi quindi una volta immobilizzati il bovino e preparati i coltelli il macellaio praticava nella gola della vittima un lungo taglio attraverso cui usciva il sangue e la vita della bestia il sangue era poi raccolto in un vaso e trasportato a parte e quindi abbiamo una serie di diciamo di dialoghi cominciando da sinistra sono le lettere la lettera A portare via il vaso del sangue poi c'è il diciamo l'affilatore affilare il coltello il coltello da parte del macellai vedete lo sta affilando poi abbiamo in C il vaso per il sangue il vaso per il sangue tira verso di te dice quello la zampa o macellaio in D poi abbiamo prenditi questo coltello che ho affilato naturalmente diciamo l'operatore si rivolge all'altro che gli sta davanti che di cui è detto macellare il giovane bue da parte del macellaio e infine l'ultimo è dissanguare il giovane bue da parte del macellaio naturalmente diciamo erano scene senz'altro per noi cruente ma per loro era il loro mestiere quindi non andavano per il sottile e infatti si proseguiva fra perché questi sono dialoghi scelti da alcune scene ma poi abbiamo in altre scene batture risposte sortazioni e impregazioni male parole insomma noi parliamo perché il ceto dei macellai non era dei più nobili con lo sportadento dell'animale senza un ordine preciso si tagliavano le zampe anteriori e posteriori attraverso un taglio nel ventre si prelevavano gli organi interni quindi intestino fegato milza reni polmoni il cuore poi era sportato delicatamente e riposto in un vaso poiché come per gli esseri umani era un organo considerato importante alla fine poi si tagliavano le varie parti dell'animale testa costate colonna vertebrale quarti anteriori e posteriori filetti eccetera e di questi diciamo pezzi dei bovini ci sono le traduzioni dei geroglifi molto esatte una cosa bisogna dire che questo lo ha accennato nel primo incontro credo comunque che quando si macellava una bestia sia sia essa sia era diciamo di pascolo o selvatica comunque quando si uccideva una bestia come avveniva fra i pelle rosse si chiedeva tra virgolette scusa all'animale e si diceva la ragione gli si diceva la ragione per cui doveva essere ammazzato questo perché il rapporto fra natura e essere umano era molto profondo adesso vediamo un pochettino che fine facevano queste carni bovine e vediamo in cucina che succedeva il modo più semplice per cucinare la carne era l'arrosto logicamente quindi per l'arrosto c'erano le cosce costrate o quarti di carne che erano messi sul fuoco infilati in uno spiego o cotti lentamente da un addetto mentre un assistente con un ventaglio stava attento al fuoco solo i grossi pezzi erano tagliati in strisce altri due modi connessi diciamo e comuni di cucinare erano la bollitura in una marmitta panciuta fornita di coerchio e anche la frittura in olio vegetale si intuisce da alcune scene ma non è sicura per carità che proprio friggendo diciamo si facessero anche del tipo cotolette che col pane era fermo sgranato e la carne fritta forse erano anche dei tipi di cotolette il grasso animale poi era aggiunto alla carne bollita e usato come condimento i grandi pezzi come coscio costate intere erano bolliti o cucinati in un forno se accompagnati da burro che i prodotti caseari erano conosciuti dell'antico Egitto inoltre la diciamo del bue dei bovini non si buttava nulla quindi nella farmacopea numerose ricette utilizzavano diverse parti dei bovini fegato sangue corna cervello milza grasso e carne cruda la carne cruda per esempio la carne fresca era ottima per le ferite in altre ricette troviamo poi grasso midollo carne milza di bue insieme ad altri ingredienti naturalmente questo è fornito questa informazione dai papiri medici in un caso di cecità per esempio un caso di cecità notturna che è l'emeralopia si consigliava il fegato di bue arrostito macinato il fegato animale inoltre contiene naturalmente vitamina A utile in questi casi ma i medici egiziani non la conoscevano però lo savano e questi sono piccoli misteri della farmacopeia e farmacia egiziana per la ferita inferta dal terribile mosso di un coccodrillo si applicava carne fresca di erbivo quindi e qui ho riportato ed è inutile che le leggo perché poi chi diciamo guarda se le legge tranquillamente alcune ricette più diciamo gustose dell'uso della carne bovina in Egitto quindi c'era la borma il saghat o canumia e la camunia sono delle ricette attualmente in uso ce ne sono tante per carità però questo diciamo dal punto di vista di diciamo di realizzazione sono quelle più facili da usare adesso possiamo andare alla diapositiva seguente e entriamo in un'altra diciamo campo della carne la carne degli ovini quindi nell'antico Egitto c'erano le pecore e quindi i maschi gli arieti le capre e poi la capra selvatica l'ammotrago infatti ne ho portato l'esempio qui sotto quindi il primo tipo l'ariete e la pecora avevano le corne spiraliformi da diciamo da precisare che si è individuata diciamo il tipo di razza di queste pecore era era lovis longipe longipes paloegipesiaca e lovis platira egipesiaca quindi la pecora e l'ariete e l'ariete le sculture egiziane lo rappresentavano magnificamente basti pensare al viale degli areti a karnak quindi avevano corna spirali formi e perpendicolari alla testa le zampe e la coda erano piuttosto lunghe e i maschi avevano un'abbondante criniera che copriva il collo la specie produceva poca lana il montone poi di questo tipo fu l'ipostesi di chnum arsafes e altri dei il secondo tipo prese piede dal medio regno sostituendo completamente la specie di sopra quindi della della pecora probabilmente di origine asiatica l'animale aveva il muso convesso orecchie penzolanti corna all'indietro e circolari tipo ammonite caratteristiche di chnum amon e delle criosfingi che operano che sono nei viali dei templi criosfinge e la sfinge a testa di ariete e qui anche dobbiamo fare un leggero viaggio piccolino per quello che è possibile nella religione quindi riguardante l'ariete la veridità e l'aggressività di questo erbivoro di questo ovino ne fecero il simbolo della fertilità e della forza tale da avere un proprio termine ba ariete sacro collegato al dio chnum il dio chnum era il dio diciamo che la cui sede principale era elefantina quindi alle sorgenti del Nilo ed era considerato il dio creatore il dio ptà che ho nominato prima era il dio creatore però più che altro riguarda i mestieri il dio chnum invece creava secondo il mito creò sul tornio del vasaio l'essere umano infatti alcune rappresentazioni lo mostrano seduto che manovra la ruota del vasaio sul perno e quindi la piccola immagine di un essere umano o di un bambino e quindi questo nome fu oggetto di venerazione a elefantina Tebe Afroditopoli Ipselis Era Cleopolis Magna Nilopolis Tanis e Mettis quindi aveva molti luoghi di culto però il suo luogo di culto principale con relativo sacerdozio fu elefantina quindi nel basso Egitto l'ariete fu identificato anche con Osiride in Mendez in cui fu adorato con la stessa magnificenza del toro Apis mummificato e sepolto in sarcofagi litici l'ariete fu anche i possesi del dio Amon questo è importante specialmente nell'oasi di Sigua in cui la divinità faceva oracoli in epoca greca Amon fu identificato con Zeus nel sincretismo Amon Zeus e il tempio fu visitato nel 332 a.C. da Alexandros Omegalos da Alessandro il Grande che lì apprese a detta sua di essere figlio di Zeus quindi poiché l'ariete era adorato in Tebe i sacrifici delle pecore furono relativamente rari in epoca dinastica pare che l'ariete non fosse gradito come cibo e che la carne di pecora fosse utilizzata al posto suo come come cibo gli abitanti per esempio di Licopolis adorando il lupo si cibavano allegramente di carne di montone quindi abbiamo a che fare con i vari tabù regionali anche perché parecchi animali poi erano i fetici antichi dei vari distretti la rana di pecora e relativi tessuti era ritenuto in genere impura dai sacerdoti e dalle classi nobili i poveri poi non andavano molto per il sottile e vestivano tranquillamente con tessuti di lana essendo il lino molto costoso riguardo alle capre poi i ritrovamenti ossei indicano varie specie di questo erbivolo esatto capra ircus capra caucassica capra membrica eccetera comunque il nome generico era anghet la macellazione o i sacrifici di capre non sono molto numerosi nelle rappresentazioni le capre avevano un certo valore come bottino di guerra e come dono dei principi asiatici al faraone la capra ibex poi quindi l'ammotrago quindi la capra selvatica aveva grandi corneri curve e fin dall'epoca preistorica essa è rappresentata nei graffiti rupestri o in tombe nelle scene di caccia in cui l'animale è catturato e addomesticato le scene di macellazione dell'ibex quindi dell'ammotagro sono meno comuni di quelle dei bovini riguardo poi agli usi delle parti di questi animali pecore e cape producevano naturalmente carne lana e latte durante il nuovo regno le greggi di pecore erano portate a Elcab per produzione di lana e prodotti giornalieri gli escrementi secchi degli ovini come del resto anche quelli degli altri erbivori erano adoperati come combustibile nella farmacopea poi erano usati il grasso di ammotrago il grasso di capra per curare le ferite e per asciugarle mescolato naturalmente ad altri ingredienti il grasso di ibex poi di ammotrago insieme a quello di altri animali era indicato per la crescita dei capelli il sangue e la bile di capra erano previsti in altre recette quindi dagli animali diciamo addomesticati quindi bovini e gli ovini passiamo poi agli erbivori selvatici e credo non so se c'è un altro diapositivo riguardante questo o non mi ricordo se vogliamo vedere esatto quindi gli erbivori selvatici logicamente erano cacciati presi vivi con particolari metodi di accerchiamento e di reti e poi dopo addomesticati nei recinti quindi diciamo gli erbivori selvatici più usati più importanti erano l'antilope adax naturalmente e l'antilope orix l'antilope l'alcefalo e la più piccolina la gazzella sia l'antilope adax che l'antilope orix erano erbivori di grossa stazza ed erano particolarmente diciamo volosi così anche per l'alcefalo il suo nome shesau tradotto dal geroglifico significa quello che sta attento che prevede infatti il suo carattere è molto previdente e poi abbiamo molto tenere e delicate le gazzelle le gazzelle d'orcas che erano piccoline e quindi prima dell'unificazione dell'Egitto questi erbivori selvatici erano cacciati nelle loro zone ai bordi dell'Egitto molto più estesi di quelli orierni non per sport ma per fonte di alimentazione poi in epoca storica lo sport della caccia con arche e frecce divenne un diversivo di alimentazione dei nobili e dei re questi erbivori erano poi addomesticati nutriti e ingrassati oltre che naturalmente essere destinati come vittime sacrificati per gli dèi e di questi diciamo della carne ovina ma anche nella diapositiva seguente ho messo un paio di ricette che poi sono molto conosciute chi è stato in Egitto senza altro avrà mangiato questo tipo di ricette abbiamo la kofta kebab e il kebab hal la kofta kebab è praticamente le polpettine diciamo così di carne ovina passate alla graticola con prezzemolo eccetera e poi il kebab hal e invece questa carne a pezzettini però in un sugo di pomodoro aglio tritato cipolla e compagno peggio e sono servite in teline è chiaro che questo tipo di diciamo di di piatto va poi insieme ad altre quando andavo in Egitto in un locale sempre frequentato il felfela non so se esiste ancora dopo tanti anni prendevo sempre quasi sempre il kofta kebab insieme ai zoccoletti di riso basmati e poi con vicino vari tipi di antipasti sono scelte che ognuno fa quando va in Egitto riguardo poi abbiamo anche c'erano anche i maiali in Egitto e in varie culture il maiale è oggetto di alimentazione o di tabù negativo infatti qui ho messo la rappresentazione il maiale era chiamato Reri Oshai Oshai la la scrofa era Reret e qui abbiamo una piccola mandria di maiali eh guidata da un uomo da un pastore con la frusta da notare il muso allungato dei disegnati insomma la menpeggio comunque è la famosa coda a ricciolino quindi l'origine del divieto della carne suina è nel Medio Oriente riflesso nella religione musulmana ed ebraica ed è attribuito all'esperienza devastante della trichinosis cioè della trichinella spiralis nell'antico Egitto invece durante il periodo paleolitico o mesolitico il maial già esisteva e i suoi resti ossi furono trovati presso Heloan e sulle rive del lago del Fayum la data della prima comparsa del maiale domestico è incerta ma i primi insediamenti intorno a 5000 a.C. nel sito di El Merib da Ben Salam mostrano dei resti consistenti dell'animale il che ne fa supporre un sostanzioso consumo tra l'altro in periodo preistorico si sono trovate anche se non ricordo male resti naturalmente di capanne le cui diciamo strutture portanti piccole strutture portanti erano proprio dei femmori di maiale o di ipopotamo la continuità alimentare del maiale è poi attestata fino al periodo di unificazione del paese intorno al 3002 a.C. a El Omari e a Mahadi comunque nel basso Egitto nell'alto Egitto invece le testimonianze osse sono più rare ritrovate a Avidos e Armand durante il Medio Regno non si hanno informazioni sul tabù riguardante la carne di maiale che inizia ad apparire con il nuovo regno la maggior parte dei documenti religiosi si riferiscono al dio Seth il dio della bufera del male del disordine come male o in epoca tarda l'animale è sempre descritto come presenza impura e abominevole ad esempio nel tempio di Edfu dedicato a Horus vi sono scene di lotta tra Horus e Seth e questo è rappresentato tanto ippopotamo quanto maiale infatti il dio Horus con testa di falco questo uomo con testa di falco spesso è rappresentato con una lancia o un giavellotto che infilza o un maiale o un ippopotamo riferentesi al dio allo zio malvagio Seth per quello che si sa il maiale visse e proliferò nell'antico Egitto scene tombali ci mostrano questo suino in branchi come rappresentato nella diapositiva oppure i loro branchi condotti da un pastore in tombe poi del nuovo regno notiamo i maiali in scene agricole usati per pestare i semi nella terra se l'animale fosse stato ripugnante e odiato nella vita dei propri cari di tombe sicuramente non l'avrebbero fatto rappresentare logicamente inoltre a Deir el Medina il villaggio degli operai della necropoli reale furono trovati numerosi teschi di maiale provo che gli abitanti della comunità se ne cibavano del maiale anche si usavano delle parti nel papiro ebers l'umore degli occhi dell'animale era iniettato nell'orecchio per curare la cecità una prescrizione oftalmica contiene sangue dell'animale denti di maiale insieme ad altri ingredienti erano macinati e posti sotto benda su parti del corpo per esperre l'essudazione infine il cervello di maiale poteva curare il cancro punto interrogativo è chiaro in ultima dulcis in fundo abbiamo la iena questo animale che poi insomma gode di triste fama ma comunque è lo spazzino delle salane mangia tutto trita osse eccetera ed è insomma a quanto di pugnante sotto certi aspetti ai nostri occhi ed è la iena la iena iena ed è il solo carnivoro mangiato dagli antichi egiziani esserà catturata ed incrassata per la tavola naturalmente ci chiediamo che sapore avesse la carne di questo carnivoro comunque il suo nome era eccetera ed è praticamente onomatopaico del verso della iena nell'antico regno le iene erano annoverate fra gli animali domestici e usate per cibo le rappresentazioni del carnivoro condotto docilmente al sacrificio sono numerose in varie tombe di Giza a Sheik e Said ed altre località è probabile quindi che le iene fossero anche usate per la caccia e per evitare che mangiassero le prede erano sottoposte ad alimentazione artificiale e con questo carnivoro che poi diciamo ha il carattere cresciuto da piccolo pare che abbia un carattere molto docine comunque con la iena abbiamo terminato la chiacchierata sulle carni nell'antico Egitto ringrazio tutti per la cortesia attenzione e anche un po' per le disgressioni religiose ma è stata così un'informazione doverosa fare grazie non si sente ora dovresti sentirmi avevo silenziato il microfono niente quindi è stata un'altra presentazione un'altra puntata molto interessante su un aspetto non molto conosciuto non molto propagandato sulle classiche linee di informazione sull'antico Egitto ma noi come come sempre cerchiamo di dare una una veste culturale più a 360 gradi facendo conoscere anche aspetti poco conosciuti ma sicuramente di grande interesse non ultima anche le ricette che sono ricette diciamo dell'Egitto moderno ma sicuramente portano dietro delle riminescenze della carne dell'usanza dell'antico Egitto quindi niente questa sera siamo stati insomma abbastanza nei tempi siamo quasi a un'ora quindi siamo particolarmente in tempo volevo dirti la prossima puntata facciamo sui volatili come se non vuoi sì sui volatili sì sì io poi quando tratteremo reparto diciamo dolciario chiamiamolo così poi metterò un paio di ricette originali dell'antico Egitto su due dolcette che sono molto buoni comunque sui volatili sui volatili sì sì è interessante c'è una tradizione anche sul piccione io in Egitto ho mangiato ho mangiato in un ristorante tipico nubiano no? ho mangiato il piccione con le salsette che hanno è veramente ma veramente gustoso insomma è un piatto nazionale diciamo in Egitto sono allevati molto bene anche nelle campagne famose piccionaie e sì pure io sul Nilo sono andato in un ristorante all'epoca dove si mangiava il piccione aveva un altro ristorante che aveva il nome di una donna italiana non mi ricordo in cui era tutto a base di piccione perfino il dolce non mi ricordo come si chiamava ecco il piccione è assai usato insomma come vabbè niente allora anche per stasera abbiamo finito io ringrazio come sempre Pietro per la sua disponibilità e conoscenza e soprattutto esposizione da professore in questo caso e saluto anche voi anche il pubblico che ci ha seguito che ci seguirà poi nelle puntate registrate che trovate sul canale YouTube e su Facebook e rimandiamo alla prossima puntata dove si parlerà dei volatili sempre relativi all'alimentazione certo buona serata a tutti e buona vita buona serata